Calano ancora le ore di cassa integrazione chieste dalle imprese lecchesi, ma la tendenza si è invertita. Darne conto le cifre contenute nel rapporto della Will dell'Ario sull'impiego degli ammortizzatori sociali. Rispetto allo stesso periodo del 2017, fra gennaio e novembre 2018, le aziende lecchesi hanno chiesto il 5% in meno di cassa, un valore sei volte al di sotto della media regionale e nazionale, dove la riduzione sfiora invece il 40%. A determinare la controtendenza è l'aumento di richieste di cassa integrazione straordinaria, vale a dire quella impiegata per far fronte ai cagli della produzione, cresciuti all'ECCO del 35%. A livello nazionale la flessione invece del 45%. Nell'analisi per settore all'ECCO esplode la cassa per il tessile più 100%, mentre nel metalmeccanico, spina dorsale del sistema economico provinciale, la crescita è del 45%. La flessione complessiva è dunque determinata dalla scomparsa della cassa inderoga, quella erogata alle aziende con meno di 15 lavoratori, e alla riduzione complessiva negli altri settori economici, quali commercio edilizio e artigianato. L'industria, insomma, ha fermato. La crescita nel 2018, dichiara Salvatore Monteduro, segretario generale della UIL dell'Ario, si è registrato un inizio anno molto dinamico, soprattutto per il territorio lecchese, grazie al metalmeccanico, che faceva immaginare una ripresa più strutturata per le aziende del territorio. Subito dopo le vacanze estive si è però manifestato un allentamento dell'economia e la guerra commerciale sui dazi doganali ha inciso pesantemente. Sono ancora tante le crisi aziendali aperte, alcune addirittura di grande impatto sociale per il numero di lavoratori coinvolti. Tutto ciò fa percepire, aggiunge Monteduro, come sia fondamentale un aumento della durata degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il licenziamento di molti lavoratori in cassa. Inoltre, conclude il segretario generale della UIL dell'Ario, è fondamentale sostenere la capacità delle nostre imprese di essere competitive nel mercato globale attraverso investimenti in infrastrutture materiali e immateriali. È essenziale a questo proposito un intervento per ammodernare la rete dei trasporti, merci e passeggeri.